Eccoci oggi in diretta, oggi è la giornata mondiale del sonno ed è arrivata una novità fresca fresca, l'abbiamo proprio appena posizionata sugli scaffali, una nuova tisana della linea Neavita. La tisana si chiama Tisanotte, vedete in mano ho due formati differenti, hanno fatto il maxiformato da 21 filtri oppure la confezione prova da 7 filtri per provare proprio questa nuova tisana, le tisane Neavita sono deliziose, strepitose, sono amatissime e vi piacciono tantissimo sia proprio da bere per voi, per i bambini o anche per i vostri regali. Questa è una tisana rilassante, va benissimo proprio presa tra il dopo cena e il prima di andare a letto. Una tisana particolare perché oltre alle classiche piante rilassanti, infatti contiene camomilla, tiglio e biancospino che sono oltretutto buonissime e che piacciono anche ai bambini, contiene un particolare granulato che ha all'interno vitamine del gruppo B e melatonina. Perché questa scelta? Le vitamine del gruppo B lavorano a livello sistema nervoso, quindi ci aiutano a dare energia quando cominciamo la giornata, abbiamo bisogno di andare a far funzionare bene il nostro sistema muscolare, ma aiutano anche a rilassare la muscolatura nel momento in cui andiamo a letto e ci sono i momenti di riposo, quindi perfette proprio da abbinare alle piante rilassanti. La melatonina invece è un pochino più famosa, già la conoscete, è famosa per chi effettua viaggi, jet lag, cambio del fuso orario oppure come quando settimana prossima dovremmo spostare l'orologio e quindi bisogna cambiare un po' i nostri ritmi, andare a letto prima, svegliarsi prima e solitamente la settimana più traumatica dell'anno quando si cambia l'ora e allora perché non provare la tisana, nuovissima tisanotte nel formato proprio assaggio sette giorni, anzi sette notti di riposo a solo 4,90€. Poi se vi piace, vi trovate bene, formato famiglia, 21 filtri a 8,90€. E visto che vi dicevo, mia vita è sempre un passo avanti, è sempre, pensa sempre anche alle idee come regali, vi piace tantissimo anche proprio da regalare, anche nella linea tisanotte hanno pensato a una confezione bellissima proprio come idea regalo, quindi confezione scatola che contiene la tisana più la tazza abbinata, tisana a bracci e buonanotte nella versione tinta unita oppure sempre nella confezione così già abbinata alla tisana anche nella versione così fiorita con fai sbocciare i tuoi sogni, quindi anche sempre dei messaggi proprio meravigliosi. Se vi piace qualcuno di questi prodotti sono arrivati in edizione limitata, la tisana continuerà ad arrivare nel formato grande, formato mini invece ne abbiamo pochi pezzi e un'edizione limitata. Vi ripeto i prezzi, 4,90€ piccola oppure 8,90€ grande o se no vi piace l'idea con la tazza, 15€ nel kit tazza più tisana, bellissima sia per voi, proprio noi a casa ognuno ha la sua tazza per la colazione e ognuno ha la sua tazza per la tisana della sera e ci piace sempre avere un sacco di tazze diverse proprio da poter utilizzare, tutte diverse in casa, quindi anche se la volete per voi o per i vostri regali scriveteci, scriveteci su whatsapp perché di tazze per esempio ne abbiamo solo 4 pezzi, la tazza e la tisana piccola è un'edizione limitata e visto che oggi è la giornata mondiale del sonno e dobbiamo prepararci a settimana prossima che si cambia l'ora, perché non approfittare per provare questa nuovissima tisana che ci aiuta a dormire meglio e a fare dei bei sogni come mi dice mio figlio quando gli do la melatonina, quindi passate a provarla, io l'ho già assaggiata, è buonissima e funziona, stanotte ho dormito proprio bene, rilassata, è piaciuta anche ai miei figli, quindi passate anche voi ad assaggiarla oppure a regalarla. Vi aspetto poi lunedì con una nuova diretta, anzi vi ricordo che sono gli ultimi giorni per prenotare l'uovo di Pasqua con i gioielli della linea alle origini, quindi solo fino a settimana prossima, fino a martedì abbiamo la possibilità di prenotare le vostre uova di Pasqua al latte o fondente e poi dobbiamo passare tutto alla golosa per confezionarle e per fare le vostre uova, quindi saranno solo su prenotazione e poi lunedì invece vi svelo la promozione di settimana prossima, intanto buon weekend e buonanotte a tutti, ciao!